in questa demo si può vedere come usare un tour virtuale per un sito web come esempio uso la sezione dedicata ai tour virtuali sul mio sito ogni ambiente ha un suo video introduttivo le porte possono condurre a pagine standard del sito oppure ad altri ambienti virtuali come questo si può così creare un ambiente virtuale complesso che permette l'accesso alle varie risorse questo ambiente è dedicato al mio portfolio le porte conducono a pagine del mio sito in cui parlo di specifici lavori